musica 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 bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video video reaction reaction io sono Xiodair e non siamo da soli ragazzi siamo in squadra ragazzi siamo con i nostri amici Cristian344 alias il ninja di Catanzaro TheDarkSkeleton alias DarkSkeleton e DarlonX05 alias il muratore ragazzi stiamo aspettando ragazzi con impazienza che che cosa? lo scheletrone lo scheletrone stai giocando a Clash Royale lo scheletrone per favore sono le 20 e 57 raga potremmo anche ballare per 3 minuti così ma poi gli verrebbero dei gravi problemi di artrite reumatoide quindi direi di proviamo a correre un pochettino ragazzi mentre aspettiamo coriamo tutti come 4 deficienti così raga perchè siamo ignorati ma perchè? mi viene mal di te adesso vediamo risucchiati e ci banano l'account stiamo aspettando raga stiamo aspettando un momento la felicità vediamo se arriva vediamo se arriva ragazzi a Borgo scrivete nei commenti com'è la nuova intro ciao Frexone è vero ragazzi questo video avrà la nuova outro è vero ragazzi l'hanno creata proprio questi 3 ragazzi quindi li picconiamo allora aspetta un attimo guarda che vabbè ma che belli siamo ma che roba ma che roba attenzione ragazzi ci manca poco KJ74 qua il criminale ragazzi sponsorizzatevi il canale donate in questo video voi che siete in live attenzione 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 movimenti ambigui i movimenti ambigui money 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 ci siamo qua spostati un po' vicino un po' vicino video reaction raga ciao Frexone ciao amico mio come stai siamo pronti ragazzi siamo entrati nell'ultimo minuto tutti fermi ok cerchiamo di sentire ma perchè un momento un momento un momento che non ha il piccone vediamo se cambia ragazzi attenzione è un mille accendini attenzione attenzione siamo bellissimi da vedere così vediamo se sarà bellissimo oh ragazzi sta muovendo mi sembra ok si 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 muove più veloce più veloce più veloce più veloce attenzione attenzione più blu in basso attenzione ragazzi ci siamo ok ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo c'è molta c'è molta tensione guarda le gambe come si muovono guarda va che tensione va che tensione attenzione 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 va che roba è più blu è più blu ragazzi il portale se il potente così l'ora tanti ragazzi grazie a tutti per aver guardato questo video grazie a voi per avermi fatto l'altro noi ci vediamo in live ciao No!